La Regione Marche sceglie la sua porta nord di Gabicce Mare per allestire la prima edizione di Marche di Wine, un nuovo evento focalizzato sulla promozione del vino e delle birre made in Marche che si svolgerà sul lungomare Cristoforo Colombo di Gabicce dal 10 al 12 giugno. Una manifestazione che coinvolgerà in totale 90 aziende del territorio, fra degustazioni al pubblico e momenti di confronto fra operatori del settore. Abbiamo scelto Gabicce perché è l'incrocio tra due territori. È la fine della riviera romagnola, è l'inizio, la porta d'ingresso delle Marche. Due territori che si incontrano, due territori che scambiano informazioni, due territori che possono scambiare esperienze e due territori che possono anche reciprocamente e anche in maniera simbolica crescere rispettivamente utilizzando una interconnessione maggiore. Due territori significa anche due bacini. In questi territori e in questi bacini è giusto che venga esaltato il valore della nostra capacità produttiva e l'espressione fortissima e altissima che le nostre aziende vitivinicole e di produzione di birra hanno raggiunto. Una grande opportunità. Quando ci è stato proposto abbiamo accolto favorevolmente l'invito, quindi ringrazio il Presidente e la Giunta regionale che hanno puntato su Gabicce Mare, porta a nord delle Marche, quindi è un'edizione zero, al di là che sia un'edizione nulla, però sicuramente sarà una grande vetrina sia per la nostra città, quindi grande opportunità, sia per la regione Marche come porta d'ingresso nella nostra meravigliosa regione. Ci è piaciuto giocare su questo Marche di wine, vino, birra e spirito delle Marche, dove spirito sta non per spiriti ma per spirito, quindi per tirar fuori il carattere vero della regione, che è una sintesi perfetta tra turismo, vino, enogastronomia e bellezze del territorio.